La aggregazione dell'area alternativa al Partito Democratico va supportata e va praticata tutti i giorni. Questo strumento online, questa nuova testata di informazione, serve a cimentare questa aggregazione che, come abbiamo visto a Bologna, finalmente comincia a dare qualcosa di concreto. Come sarà questo sito? Un sito di informazione e di formazione. Da un lato dirà tutto quello che produce il centro-destra a livello politica, amministrativa e culturale in terra toscana e al tempo stesso farà attività di dibattito e di approfondimento in una fase in cui, come i toscani, abbiamo il dovere anche noi di partecipare alla ricostruzione nazionale di questo schieramento politico.